Harry! Hagrid! Ciao, Hermione! Sono contenta di vederti! Anch'io sono contenta di vederti! Cosa ti è successo agli occhiali? Oh! Oculus Repar! Me la devo ricordare questa formula! Ora te la cavi da solo, vero, Harry? Bene, allora vi lascio! D'accordo, ciao! Ciao! Andiamo, sono tutti preoccupati! Cosa c'è? Harry! Harry! Grazie al cielo! Speravamo che tu fossi sceso solo un focolare più avanti! Signore e signori, il signor Gilderoy ha l'ho! Bello! Mamma ha una cotta per lui! Fate largo, per favore! Vorrei passare, signora, grazie!